Come si farà? Certo la strada più semplice sarebbe che chiedessero la grazia, però chiedere la grazia significa riconoscere la propria colpevolezza. La famiglia Calabresi, madre e figlia, ha già detto che non si opporrebbe alla grazia. L'hanno dichiarato perché è una famiglia di gente molto perbene. Però capisco anch'io che quei tre non vogliano assumersi la responsabilità dell'assassinio vero e proprio. La responsabilità morale sì, quella penale no. Ma qual è la sua opinione su Leonardo Marino? Io non ho opinioni precise, lo conosco di vista perché lui vende le frittelle a bocca di magra. Siccome io i miei periodi di riposo li trascorro lì vicino, vado spesso a bocca di magra, vedo questo uomo così molto semplice col suo baracchino in cui frigge le frittelle e ha tutta l'aria di essere un poveraccio. Però ho raccolto anche, non so quanto fondate, alcune voci che mi dicono che questa è solo la messa in scena perché poi lui in banca avrebbe un peculio. E certo se questo fosse vero, insomma ci sarebbe un po' da dubitare sull'origine di questa confessione. Ecco, però ripeto, sono voci che io non avallo, non smettisco che non avallo. Quindi una conoscenza così superficiale dell'uomo, da lontano. Ma se le stragi ebbero un'impronta neofascista in quel momento, resta da chiedersi perché, quali erano i momenti di spargimenti di sangue così insensati, come ci furono in quel momento. Ma senta, come in tutti i processi italiani, anche in questi, che poi si misero, volevano arrivare all'identificazione dei responsabili, che non ci arrivarono quasi mai, erano dominati dal cosiddetto teorema. Si partiva dal presupposto, a un certo momento si smise di parlare degli anarchi, si smise quasi subito di parlare, e tutte le lampadine furono rivolte ai partiti, alle forze di destra, erano quelle le forze stragiste. Quindi noi si partiva dal presupposto, cioè i nostri bravi giudici, salvo alcuni, partivano dal presupposto che certamente venivano di lì, venivano dalle destre, dalle destre più violente, alle quali si attribuiva, sempre per teorema, questa idea, creare una tensione nel paese in modo da impaurire gli italiani e metterli alla scelta o la libertà o l'ordine, perché insieme non potevano andare. Nella libertà era chiaro che non si poteva mantenere l'ordine. E loro dicevano che qualunque popolo messo a questa scelta sceglie l'ordine. È un teorema, è un teorema che ha sempre cercato dimostrazione e non l'hanno trovata mai. In Italia agli anni 70 sono quelli nei quali interventi illegali violenti di varia natura esercitano le pressioni più forti sui canali normali della vita politica istituzionale. Inoltre il sistema economico italiano, dopo un ventennio di crescita pressoché ininterrotta, in seguito alla quale aveva perso quei connotati agricoli che aveva mantenuto fino agli anni 40, fu squassato da una recessione nel settore industriale di inusitata durata e complessità, iniziata nell'ambito energetico, destinata a condizionare in modo duraturo il modello di sviluppo italiano. Tra il 1969 e il 1982 si sono avuti 6153 attentati non rivendicati e 2712 rivendicati da organizzazioni clandestine, con la conseguenza di 351 morti e 768 feriti. Le stragi costituiscono una delle manifestazioni più inquietanti di questa criminalità politica. Si addensano in una prima fase tra il 1969, 12 dicembre strage di Piazza Fontana a Milano, e il 1974, agosto 1974, strage di San Benedetto Val di Sambro. Nell'estate 1973 viene svelato il progetto golpista della Rosa dei Venti. A dicembre i soldati restano consegnati nelle caserme della capitale. Nell'agosto 1974 si è notizia di un golpe bianco progettato da Edgardo Sogno. Naturalmente le stragi non sono rivendicate. La sequenza della loro successione non può non evocare la presenza di una regia occulta. I mandanti, nonostante le innumerevoli inchieste giornalistiche e i lunghi procedimenti penali tuttavia, sono rimasti per lo più un segreto ben guardato. Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante. Ma gli italiani come reagivano? Gli italiani erano in balia di una stampa di forze politiche le quali avallavano tutto questo, non so quanto in buona fede. Ma c'erano forti fazioni, tensioni nelle famiglie, nella vita quotidiana? C'erano sì, c'erano anche queste, ma insomma si accettava, il vento che tirava andava in quella direzione e lo dimostrano gli intellettuali quali sempre si schierano col vento che tira. Guardate, quando io ho letto questa lista degli 800 nomi che è stata riprodotta in quel bel piccolo libro di Michele Brambilla, L'eschimo in redazione, che naturalmente non si trova più nelle librerie, dove c'è tutto questo racconto con nomi e cognomi, veramente viene da vergognarsi di appartenere alla categoria degli intellettuali. Ma e lei in quel periodo come reagiva? Beh, io reagivo in maniera del tutto opposta, lo sanno tutti, e appunto per questo il grande reprobò, eccetera, eccetera, a me non importa nulla. Quindi ebbe vita difficilissima, in quegli anni, ebbe una vita solitaria e difficile. Avemmo noi di tutto il gruppo del giornale italiano, non io solo, ma io ero un po' la bandiera che svettava così. Senta, ma nel contesto dell'assassinio di Calabresi, già allora Dario Foro si ergeva a giudice, del resto additò Calabresi nelle sue pièce teatrali di allora, come il famoso dottor Cavalcioni, il commissario finestra. Ecco, secondo lei non lo si lasciò fare un po' troppo, Dario Foro? No, perché queste cose non si combattono con la censura. La censura le avvalora. La censura implica che il potere ha paura della verità e quindi tappa la bocca delle cose. Queste cose bisogna che si esauriscano da sole, perché è piano piano e da sopra il pubblico si rende conto che quella o è una menzogna o è una forzatura della verità che equivale a una menzogna. Sono sicuro che oggi Fo non rifarebbe quello spettacolo. Si è esaurito da sé. Strage di Stato, strategia della tensione, sono queste le etichette con le quali sono stati catalogati questi avvenimenti terribili di cui abbiamo parlato in questa puntata. Resta ancora da chiedersi allora quali fossero i mandanti, quali le intenzioni, quali i motivi di tanto spargimento di sangue che considerato al filo di logica è veramente senza senso. Ma il crimine forse non ha mai senso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.